Però Freezer non è solo. Siamo tutti Saiyan in fondo, no? Cerchiamo di andare d'accordo. Potente Freezer, che si fa? Avanti, mostrami a quanto equivale la sua vera forza. Oh, no! Ti ho portato con te dei Senzu, eh, Kakarot? No, non ti ho portati! Quindi ora non è il caso di continuare a giocare. Ehi, tu! È ora di passare a batterti con me! Kakarot! Saiyan Power! Ma non è stato sempre facile. Lo devo ammettere. Ad ogni modo tu non sei una cattiva persona. Io questo lo capisco bene. Smettila di fare così. Non devi dare ascolto a chi ti dà cattivi consigli. Non è stato sempre un guerriero senza ascoltare i suoi desideri. E questo è il risultato! Ora capisco perché tanta rabbia. Mi fa una pena, povero ragazzo. Ma non è ancora una cosa! Ma non è così! E questo è vera cosa che vuoi! Ma non è così!